Dai che è andata, dai che è andata Sarà tutto a fianco nero alla fine Buono, cacca mi sei, peccato Alzate Mario, alzate Mario, dai Dai 30 secondi Muti Muti La stessa serata Per i nostri avversari Tira via, tira via sta palla, tira via sta palla Buono, facile Facile, ecco come si gioca a calcio Ci ne signa Ciao, Chinatown Questo è giocare a calcio Sì Sì Doppio Gonzalo Padroni a San Siro Vamo a Siuve Così 18 Milan Juventus Allora Bello Sivali Iguai Corsi Corsi Dai Dai Ami Dezatà Dai Che era questo? Ami Siro Santa I-Sidori si ti era la fel I-Sidori si ti era la fel I-Sidori si ti era la fel Lo cazzo si è andreschiato fucking Asa! Pagliasa! 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 Piguessi! SIE! SIIIIIII! Muti! 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 Cazzo! SIIIIIII! piglia la donna roma, piglia la donna roma di me al volo che miseria fratelli e sorelle ciao a tutti bentrovati benvenuti in questo mio nuovo video nonostante la febbre che mi affligge ma la medicina stasera sicuramente è stato uno strepitoso Gonzalo Higuain che stende il Milan e la Juventus torna dopo un anno a riconquistare San Siro un Milan a cui abbiamo concesso davvero soltanto le briciole la Juventus ha dominato la partita in lungo e in largo abbiamo concesso loro soltanto i primi dieci minuti di pressing comunque infruttuoso e l'ultimo minuto davvero gli ultimi secondi del primo tempo su cui c'è stata quella traversa di Kalinic sulla quale comunque Buffon è stato semplicemente strepitoso prima nel mezzo e dopo come detto una Juventus che ha dominato e condotto le danze non abbiamo avuto un numero importante di palle e gol ma a differenza di altre partite siamo stati cinici spietati abbiamo colpito con la sentenza la sentenza del Pipita quando dobbiamo colpire sull'asse tra l'altro Di Bala Higuain perché Di Bala stasera entra in tutti e due i gol l'assist del primo e poi il velo decisivo sul passaggio di Asamoah lo stesso Asa ha fatto una partita sontuosa stasera Allegri coglie nel segno facendo giocare lui che non solo disinnesca Suso non gli ha mai praticamente concesso il sinistro per il cross ma come detto entra anche con un'azione solitaria strepitosa nel gol del 2 a 0 bene Rugani bene la difesa Chiellini è stato semplicemente maestoso comunque è stata tutta la Juventus tutta la Juve davvero che quando gioca la Juve agli avversari lascia le briciole anche se Codesti si chiamano Milan a San Siro la chiudo la chiudo dicendo che non fanno le figurine non fanno mai le squadre stasera lo abbiamo dimostrato e soprattutto ai tifosi del Milan ecco a voi vi è rimasto soltanto andare nell'inizio con la coreografia andare a parlare delle nostre disfatte europee quando da 6 anni fate ridere in Italia e in Europa siete praticamente dei fantasmi al signor Bonucci manco lo sgabello stasera perché in panchina stava in panchina in tribuna stava addirittura in piedi quindi quindi grande risposta della Juve grande risposta di forza un messaggio importante al campionato signori adesso agli altri rispondere domani è lunedì ma la Juve c'è la Juve timbra il cartellino e risponde presente con forza dominando ed espugnando San Siro vi saluto ci vediamo al processo poi sarà Champions come sempre fino alla fine vamos Juve ciao a tutti e buona dolcissima domenica bianconera ciao a tutti ciao a tutti Grazie.